Musica Bella a tutti ragazzi bentornati nel Dark Channel, io sono DarkNushi e bentornati in questo nuovo video della Dimensional Jumper Allora oggi andremo a fare il livello 6 Ok, allora innanzitutto qua ci sono le pozioni che noi ci prendiamo tutte quante perché così non dobbiamo andare le altre volte Sistemiamoci un attimo l'inventario, quindi infiliamole tutte lì, perfetto Ho preso questa, tranne questa Ok, questa qui e questo qui Perfetto, allora qui abbiamo preso tutto Non ho toccato niente, quindi Dawn Ah, ma spieno? Ok, posto Allora, quindi, quindi, quindi Mi sa che da quel che capisco devo fare questo parkour Però probabilmente inizia qua nell'inferno Infatti Poi devo fare così Ma what? Aspettate Ah Ah, ho capito, ho capito Ho capito, ok Ok Ora non so se devo arrivare lì Sì, sì, dovevo saltare in avanti Perfetto Allora Andiamo avanti di qua Hop Perfetto Perfetto Maia Allora riproviamo, allora Andiamo di qua Hop Perfetto Perfetto Forse questo salto devo fare qui Oppela Infatti Ok, quindi se ci mettiamo qui Devo mettermi a collo in mezzo No Ok Allora Andiamo, via Allora Mangiamoci questo gelato Ok Allora Saltiamo di qua Prendiamo la bottola vencente Andiamo di qua E andiamo avanti Ho sbagliato Perfetto Allora Concentrazione Uno Concentrazione Perfetto Perfetto Hopperà Questo in mezzo E' il primo, allora E allora era il primo Andiamo avanti di nuovo Mangiamoci la stick qua Allora Bottola vencente E saltiamo Bottola vencente E si sa Si salta Dicevo Allora Bottola vencente E dovevo saltare Vabbè Allora Ho sbagliato Quindi saliamo su Così Via Salta Perfetto Salta Ok Salta Perfetto Hopperà Al primo Ok Arrivati qua Ok Ok Quindi in teoria Stiamo sulla chioma Di un albero Oh Oh Ok 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 Uh La leva è lì La leva è lì Io ho paura Voglio provare a fare Prima una cosa No Oh Che è successo No Ho sbagliato Ho sbagliato Tutto No Vai vai Però non è difficile Ho capito come funziona Ok Aspettate Aspettate Ok Con calma Con calma Tranquillamente Ce la faremo Allora Iniziamo così Facciamo un salto di qua E andiamo avanti Saliamo di tre Ok Allora Calma Facciamo così E andiamo avanti Con calma Saltiamo Magari senza che ci baghiamo Ok Al primo Perfetto Rimaniamo qui Andiamo dritto Poi Facciamo Non mi ricordo Se sono salito Lì sopra O no Ehm Sì Non ero salito Perfetto No Aia Ok ragazzi Sono tornato qui Off camera Perché era inutile Vi facevo rivedere Mille volte Me che saltavo Quindi adesso Dobbiamo fare questo salto Perfetto Quindi Quello lì dovrebbe essere L'albero Non so se io adesso vado lì O rimango qua Dovevo andare lì Vabbè Questo non è difficile Questo parkour Diciamo Quindi Vabbè Riproviamo a rifarlo insieme A voi Così Tranquillo Tanto non è un parkour Chissà quanto impegnativo Infatti Non è impegnativo Però io crepo Cado Muoio Allora Chissà quante leve Ci saranno qui In questo livello Perché da quel che io ho capito All'inizio Che ce n'era una leva Per livello Invece Ce ne sono tre Perfetto Allora Ok Tranquillamente Uno Perfetto Uno Salta Ok Ok Sul primo Perfetto Tutta questa strada Fermandoci Su questo blocco Così Quindi ora sono sopra l'albero Saliamo su Oppela Andiamo dritto Facciamo questo salto qua Poi Se non sbaglio Dobbiamo spawnare qua Sì Fare questo salto qua Se io saltassi qui sopra Oh Dove mi trovo? Ah ok Mi trovavo all'interno dell'albero Quindi adesso Allora La leva dov'è innanzitutto? Oppela Ah è lì E come ci arrivo io lì? Con un salto L'ho presa Sì L'ho presa Dove è finita? L'ho vista cadere ragazzi E la leva? No Dove è finita la leva? Ops Leva Eccola 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 Perfetto Ok Allora Siamo arrivati Qua Però non è qui L'entrata In teoria dovrebbe stare Nel nider Vediamo un attimo Eeeh No Quindi questa leva Dove va usata? Mi teleporti? Oh bravo Allora Studiamo un attimo La situazione Forse Forse in questa casetta Rosa C'è un'entrata Qua Che però è chiusa Qui è chiusa Ci sta un'entrata Ah eccola qua Quindi la prima leva Devo piazzarla qua Ok Ok Questa non so cosa è Questo Ok quindi Adesso se io vado nel nether In teoria Eeeh Rimango chiuso dentro Perfetto Ah aspettate Quindi qua l'abbiamo messa la leva Mi sembra che dobbiamo metterla qua Quindi dovevo fare l'altro parkour Quello che io avevo visto nel nether No Ah eccola lì la leva Eeeh Throw items to guide you Che significa Non lo so che significa Vabbè No andiamo nel nether allora Quindi Dove inizia questo parkour Per prendere la leva Inizia inizia Qua Allora Come salgo sopra 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 Allora aspettate Aspettate Che qua C'è qualcosa che non va Il parkour è quello lì Che è da fare In teoria Che dietro dovrebbe esserci Un modo per salire Vediamo un attimo eh Allora Allora un modo per salire Lì sopra Vediamo un attimo eh Ok Mi sa che non dobbiamo salire Però A questo punto Mi viene da dire Ma Dove dobbiamo andare Perché mi ha teleportato Così A caso Perché Ma Aspettate eh Ma Non vedete che l'ho presa la leva Perché No infatti Niente Quindi Vediamo un attimo lì Nell'overworld Dai su Allora Throw items To guide you Sì ho capito Questo qui dovrebbe essere Un item Guida Però Non riesco a capire Come ci salgo Cioè Come funziona Tutto Cioè Non riesco a capire Allora ragazzi Cioè Diciamo che Stop un'altra registrazione Ragiono un po' Su come fare Ci rivediamo tra poco Ok ragazzi Girando come un idiota Per tutto il tempo Vado a vedere Qui c'è una delle scalette Quindi Mi viene da pensare Che devo farmi Tutto il parkour Fino all'anno Partendo da qua Quindi Dai Allora Saliamo qui sopra Facciamoci la casetta Oppela Cioè Ma solo io riesco a cadere qua Solo io Allora Andiamo di qua Certo Va bene Sì ok Ok Va bene Va bene Allora Andiamo avanti di qua Vediamo magari se non la gasser Che già faccio schifo Nel parkour Quindi vediamo un attimo Stando sul tetto Lì c'è un albero Da qua In teoria dovrei poterci arrivare Infatti Mettiamoci qua sulla punta Spendiamo il sto fuochetto Di tacchio Ok Adesso forse starei sopra un albero Sì esatto Quindi magari Ehi Minecraft Oh Emme Aiuto Aiuto E qua devo andare per farsi sopra l'albero Cioè Sentite eh Oh Sto stancato Stancato Allora Devo fare per forza così Credo Yee Allora Devo Vabbè No Mi devo rifare tutto il parkour Ok ragazzi Sono arrivato qui Speriamo in bene Si fa Allora Adesso in teoria devo andare qui sopra Sto sul tetto Tranquillamente salgo sull'albero Mi dovrei Mi dovrei teletrasportare Mangiamo Una caramella Perfetto Ok Vai 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 Ottimo Saliamo Qui no Maledizione Eh Cominciamo da capo Via Ok ragazzi Sono arrivato qui L'ho fatta tutto A razzo Quindi in teoria dovrei mettermi su questo rosso Sì Opla Salire qui Aspettate Opla Qua Così Ho paura Così E in cima Leva Aspettate Mangiamo Perfetto Ok Allora Abbiamo preso la leva E il quadro Quindi adesso In teoria Dovrei tornare Nell'overworld Giusto Sì E Entriamo lì dentro Sperando in bene Lasciamo questi cosetti qui Che danno solo fastidio Allora una volta entrati qua Mettiamo l'altra leva Andiamo qui dentro Ehm Oh Ops Non ho fatto niente Ci vuole un'altra leva ancora? Un'altra leva Quindi Ok Dove sarà Dove sarà quest'altra leva? Bella domanda Voi dite Eh Dove sarà? Dove sarà? Dove sarà? Allora Quel parkour L'ho fatto Quel parkour L'ho fatto Lì ci stavo Sopra Prima Che parkour Che io non ho fatto? Vediamo un attimo Anche Nel nether Oh Che cos'è? Un uovo? Un pollo La sacrifica La satana Ok Allora Qui ci sta Questa pozza Di lava Magia Da perché Ti dico No Non credo Che sia lì dentro Allora Io sono entrato In tutte le case Nel nether Lo stesso Allora 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 Fatemi pensare Fatemi pensare Io dico Allora E voi mi dite 60 minuti Ok Ma non è che ce l'ha da lui Ehi tu Vieni qua Ma vaffanapoli Oh Mi ha insultato eh Cos'hai detto? Eh? Cos'hai detto? Cos'hai detto? Su Dai Dai Sì va bene Lo dici ancora? Lo dici ancora? Ancora? Dai su 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 Insisti Mi stavo insultando ragazzi Scusate Allora Vediamo un attimo Ragazzi ci penso Nel senso che perdiamo tempo Ci vediamo tra un po' Allora ragazzi Ho girato per tutta la cosa Non sono riuscito a trovare Diciamo la leva Adesso mi è venuta Diciamo L'unica cosa Che potrebbe stare Secondo me In quella cosa D'acqua Proviamo lì Perché se non la trovo lì Davvero non so dove trovare Quella benedettissima Leva Quindi Andiamo Di qua E se non sbaglio Era il primo Sì E E Da qua In teoria Siamo sopra l'albero Quindi siamo entrati In acqua Vediamo un attimo Se la leva Sta qui Perché se no Eh infatti Ho trovato la leva Ah Meno male che mi è venuta Questa bellissima cosa in mente Una cosa Adesso come esco da qua Aspettate Quindi in teoria Ah E se devo andare a Neller Forse Sono morto Però almeno Ho trovato la leva Sono morto Ma ho trovato la leva Quindi Livello 6 Perfetto E torniamo Alla casetta Hop Hop Ah Meno male che mi è venuta Quest'illuminazione Dell'acqua Perché se no Perché mi sembrava Troppo strano mettere Perché di solito L'acqua Lui la Cioè l'acqua non c'era Perché è sempre neve Quindi era sempre ghiacciata Però qui c'era l'acqua Quindi Mi ha fatto Mi pulsava Quindi adesso In teoria Sono arrivato Ok Chest Enchanting table Quindi in teoria Adesso dovrei andare a Neller E E trovare la Prestor Plate Ma la Prestor Plate Non c'è Ok Questo mi preoccupa Questo mi preoccupa davvero Non c'è la Prestor Plate Ma che cacchio No Non riesco a capire ragazzi Dov'è la Prestor Plate Dov'è C'è Allora ragazzi Vediamo un attimo Aspettate Dobbiamo ragionare Quindi noi abbiamo trovato Tutte le Diciamo le opzioni Di entrate e di uscita Però Andiamo un attimo Neller Ok Qui è chiuso Quindi Andiamo di qua Perché vedete Qua secondo me Sta qualcosa Qua in mezzo Allora Qui niente Andiamo qui Niente Qui Oh Niente Ma Oh Aspettate Aspettate Eccola Oh yes Va bene ragazzi Ho completato Il sesto livello Spero che il video Vi sia piaciuto Passate da Instagram Seguitemi anche lì Mettete un bel mi piace Alla pagina di Facebook Io vi ricordo Di mettere mi piace Iscrivervi e commentare E noi ci vediamo Nel prossimo video Ciao a tutti